L'autore della regola di Ekei parla della parola, molto interessante questa descrizione, l'abbiamo sentita già da un po' e viva, efficace, come una spalla pariente. Ci fa pensare all'altro passo che si vede quando dice la parola pioggia, quando viene e produce sempre qualche cosa. Poi vedete che sulle cose dice l'autore? E mi scelgo i sentimenti e i pensieri dell'uomo. E davanti alla parola che io devo specchiarmi e devo vedere chi sono io. La risposta alla mia vita è io, chi sono? Io come sto vivendo? Io sono fedele ai miei tempi e davanti alla parola che mi scelgo i sentimenti e i pensieri dell'uomo. Grazie.